Vieni con me, guarda che spettacolo stamattina, lupac e l'ossico, 17 ossiche, 3 ore e cinquanta anche sulle patatine San Carlo, la gente vuole sapere come faccio ma io non lo faccio neanche io guarda qua, ossiche per tutto quanto, ad agonore tutto quanto, a due minuti la domenica a Napoli è sacra lo pesce è come un uccello a tavola, vieni a capire, guarda qua che pacco, è esagerato stamattina ci siamo operativi, guarda, lupini 2,50 euro, lupini metri 4 euro, talline giganti, misto paesano, vongole 10 euro vongole giganti, guarda, parola, vieni a te, pesce a spada e salmone 10 euro al chilo, intero 7,99 guarda quanta pesce, guarda, veniamo in banca, esagerato stamattina, io vi lascio perché sono in tapparatissimo mando un bacio forte e forte, vi lascio la panoramica con te, vai, accomodate, guarda, mangiate pesce perché la famiglia cresce, vai tantissimo io io giro io Grazie a tutti Grazie a tutti